La parrocchia della Castellina ha querelato Don Francesco Spagnesi, il sacerdote agli arresti domiciliari per importazione e spaccio di droga acquistata con i soldi della Chiesa e consumata durante i festini a luci rosse organizzati a casa del compagno Alessio Regina, anche lui arrestato. La querela è stata consegnata stamani in questura e da qui depositata in procura. Al sostituto Lorenzo Gestri, titolare dell'inchiesta, la parrocchia chiede di verificare la sussistenza del reato di appropriazione indebita, cioè se gli ammanchi, che secondo le stime oscillerebbero tra 130 e 150 mila euro, possano diventare un'ulteriore ipotesi accusatoria a carico dell'ex parroco. È stato Don Spagnesi a confessare di aver usato i soldi della parrocchia per comprare cocaina e GBL, meglio nota come droga dello stupro. I primi acquisti risalirebbero al 2019, l'ultimo alla fine di agosto, quando prima Alessio Regina e poi il sacerdote sono finiti nei guai. Erano in macchina insieme sull'auto di proprietà di Don Spagnesi, quando la polizia li fermò per un controllo. Ad attirare l'attenzione degli agenti fu un pacchetto intestato a Regina, proveniente dall'Olanda, appena ritirato da uno spedizioniere. All'interno un litro di GBL, da cui ricavare tra mille e duemila dosi. I consistenti e continui prelievi di denaro dal conto corrente della parrocchia erano già emersi a maggio del 2020, ma è la scorsa primavera che il vescovo Giovanni Nervini viene a sapere della tossicodipendenza del prete e revoca la firma dai conti. Intanto prende sempre più consistenza l'altra ipotesi di reato, quella della truffa ai fedeli, a cui, dopo essere stato interdetto dalla possibilità di fare operazioni sul conto corrente della parrocchia, il sacerdote si rivolgeva chiedendo soldi da destinare alle famiglie povere. Sette e otto al momento le querele arrivate in procura da parrocchiani e conoscenti che si sono sentiti traditi dal prete, che erano convinti di aver fatto del bene alle persone bisognose e che solo dopo l'arresto hanno saputo di aver finanziato i canali della droga.